Come si ricristianizza una parrocchia di Paolo Risso. Ernest André nasce il 17 ottobre 1826 a Bagneux-la-Foss, nell'Aube, Francia, figlio di un carpentiere. Nella sua fanciullezza una grave malattia, la cui guarisce per miracolo, e l'influsso benefico del suo padrino, che era sacerdote, gli fanno nascere in cuore il desiderio di farsi prete. Nel settembre 1839 entra nel piccolo seminario di Troie, dove il 21 giugno seguente riceve la cresima. È un giorno di grazia speciale di cui dirà, ho compreso ciò che è la vita sopranaturale, tutto ciò che ho potuto insegnare le anime di questa vita è in quel giorno, è in quel luogo che lo ho appreso io stesso. È la scoperta che Cristo è la vita dell'anima, che è il centro di tutto, lui stesso la vita sopranaturale. Prima di tutto, le anime. Ancora adolescente, un giorno del 1843, in cui passeggia verso le rovine dell'abbazia di Molesm, culla del fondatore dei Cistercensi, davanti ad una piccola valle solitaria, ha un'intuzione affascinante. Trovandomi là, all'improvviso, ebbi l'idea di un monaco. Mi sembrava vedere il monastero nella pace della sua solitudine, e il monaco stesso, staccato dalle cose della terra, e raccolto alla presenza della maestà di Dio, mentre lo adorava e lo lodava. Questa idea fu così chiara e così viva che non l'ho mai dimenticata. Questa attrattiva non lo lascia più, anche se non potrà realizzarla che all'avvicinarsi dei quarant'anni. Nel seminario maggior di Troie, il giovane Ernest Andrè legge molto i padri della Chiesa, in primis Sant'Agostino, e i maestri della cattolica, scegliendo Sant'Ommaso d'Aquino come il maestro per eccellenza. Un episodio ricordato dai suoi biografi testimonia il suo temperamento e la sua sete di assoluto. Al suo professore di morale, che terminava l'esposizione di un caso, dicendo «Bisogna salvare le apparenze». Il giovane seminalista rispose «Mi scusi, bisogna salvare le anime». Discorso di singolare necessità e urgenza che vorremmo sentire oggi dai nostri predi. Ernest viene ordinato sacerdote il 22 dicembre 1849, celebra la prima messa alla visitazione di Troie, utilizzando una pianeta che aveva indossato San Francesco di Sales. Si pone all'inizio della sua vita sacerdotale, nel solco di quel grande maestro di spirito da cui aveva tratto la sua lettura abituale già da diversi anni. Una parrocchia convertita. E' nominato curato di Mesnil Sandloup, una piccola parrocchia di campagna di circa 300 abitanti, dove arriva il 24 dicembre 1849, in tempo per celebrarvi la messa della notte di Natale. I suoi parrocchiani diranno che l'abbè Ernest l'ha portato Gesù Bambino, anche perché nei 53 anni in cui vi resterà fino alla morte, si renderanno conto di quale dono li abbia muniti il Signore. Dire che egli trasformò spiritualmente la parrocchia non è esagerato e il paragone con il santo curato d'Arsa ancora in vita in quegli anni è d'obbligo. Mesnil Sandloup, come numerose parrocchie di Francia nel XIX secolo, non si era ancora ristabilito dal trauma della rivoluzione del 1789. E' una parrocchia che ha subito tutte le miserie della rivoluzione. L'esimio curato, che allora era stato cacciato, privato di tutto, arrestato, poi subirono le violenze del terrore di Robespierre. Sull'altare dell'antica chiesa si intronizzò la figura di una donna scostumata come rappresentazione della Dea Ragione, come avvenuto a Notre-Dame, a Parigi. Nel 1820, alla morte del vecchio parroco, rientrato nella sua parrocchia all'epoca del concordato, Mesnil cadde in rovina durante più di vent'anni. Uno dei curati che vi passarono diede scandalo e apostasia. Infine, quando il giovane abbè Ernest fu nominato curato, la parrocchia, materialmente povera, era anche dal punto di vista religioso la più povera tra quelle del vicinato. Nella parrocchia dove la comunione frequente era assai rara e il ballo e le taverne attiravano più della chiesa, dove il rispetto umano era un freno all'opera della grazia. L'abbè Ernest si impegnò a far santificare la domenica con la messa solenne, un sermone di istruzione con una preghiera la domenica sera, ma il grande mezzo per la conversione doveva ancora venire. Nel giugno del 1852, l'abbè Ernest intraprende un viaggio a Roma. Durante il viaggio ha l'intuizione di chiedere al Papa Pio IX di istituire una festa in onore di Nostra Signora della Santa Speranza. Pio IX lo riceve in udienza il 5 luglio 1852 e acconsente alla sua richiesta. Rientrato a Mesnil, il curato il giorno dell'assunta, 15 agosto 1852, annuncia ai parrocchiani il documento pontificio. L'invocazione Nostra Signora della Santa Speranza Convertici si impone e si diffonde. L'anno successivo viene fondata l'associazione di preghiera perpetua Nostra Signora della Speranza. Un vero capolavoro di iniziativa dal punto di vista della preghiera perché unendo 12 membri, uno per ogni ora del giorno e della notte, assicura la preghiera continua. Ciascuno dice l'invocazione Nostra Signora della Santa Speranza Convertici, seguita dalla recita di un Ave Maria. Dopodiché si ripete l'invocazione Nostra Signora della Santa Speranza Convertici. Le conversioni nella parrocchia di Mesnil, poi ben oltre che suscita quest'opera, sono impressionanti. Ci sono fino a 20.000 adesioni, nuove solo nel 1858. L'abbè Ernest scriverà più tardi. L'opera di Nostra Signora della Santa Speranza a Mesnil Saint-Loup era semplicemente il ristabilimento del cattolicesimo tra i battezzati. Che dire? Ancora una volta è la Madonna invocata con fede ad essere la celeste condottiera delle anime a Gesù Cristo, al Paradiso. Provare per credere. Monaco fondatore Nel 1864 l'abbè Ernest può finalmente impegnarsi nella vita monastica a cui aspirava da lungo tempo. L'opera realizzata dall'abbè Mouard a la Pierre Quivir a partire dal 1850 è stata uno dei modelli cui lui si è ispirato. L'abbè Mouard, prete della diocesi di Sains, aveva fondato una comunità benedettina la cui vocazione particolare era l'apostolato nelle parrocchie spesso scristianizzate. Proprio nel 1864 l'abbè Ernest, con il consenso del suo vescovo, può fare un lungo ritiro alla Pierre Quivir con il suo confratello l'abbè Babeu, che aveva le stesse aspirazioni e che già risiedeva a Mesnil. Così il 30 novembre 1864 nella cappella del vescovo di Troye l'abbè Ernest André e l'abbè Babeu rivestono l'abito benedettino ricevendo il primo nome di Fra Emmanuel e il secondo quello di Fra Paul Eugène. A ritorno a Mesnil i due religiosi presero a vivere come monaci dediti a Gesù solo e al servizio dei parrocchiani con maggiore intensità e fecondità di opere. Il padre Emmanuel resta parroco di Mesnil, tutto per Gesù e per i suoi parrocchiani per i quali era diventato e lo è ancora di più il padre. Quando la comunità monastica aumenta viene decisa la costruzione di un monastero in cui padre Emmanuel si stabilisce con i suoi confratelli monaci il 16 luglio 1872. Non mancano i contrasti con il nuovo vescovo di Troye, Monsignor Corté. Tuttavia nel 1878 il padre Emmanuel fonda una comunità di benedettine e la società di Gesù, coronato di spine, volta a promuovere la modestia nel vestire tra le giovani e le donne della parrocchia. Un anno prima il padre ha lasciato il bollettino dell'opera di Nostra Signora della Santa Speranza sostenuto da solidi studi di dottrina. Nel 1880 viene votata la legge anticlericale che colpisce le congregazioni religiose. La comunità di Mesnil non è colpita perché ha statuto diocesano ma è commissariata dal vescovo e dispersa. Il padre Emmanuel, l'unico dei religiosi, può conservare l'abito benedettino e resta a Mesnil con due confratelli. È l'ora di trovare l'aggancio della sua comunità a una congregazione di benedettini, l'unica via per sfuggire all'ostilità del vescovo. Padre Emmanuel si rivolge agli Olivetani d'Italia. Il 23 maggio 1886 riceve con il padre Bernard l'abito degli Olivetani a Settignano presso Firenze e fa la professione il 5 agosto seguente. Finalmente può ricostruire in patria la sua comunità dedicata a Nostra Signora della Santa Speranza di cui diventa abate il 25 febbraio 1892. Nel 1901 la legge che obbliga le congregazioni religiose a chiedere l'autorizzazione per continuare a esistere porta alla dispersione di due monasteri di Mesnil. Ma padre Emmanuel non si arrende anche se ormai vecchio e malato, sostenuto dal suo amore a Gesù e dalla confidenza in Maria Santissima, Nostra Signora della Santa Speranza alla quale sa di dovere tutto. Rimane a Mesnil come parroco con un confratello che gli fa da vicario. A 77 anni, dopo 53 anni passati a Mesnil come parroco e monaco, come evangelizzatore della comunità, come fondatore e animatore di vita monastica, il 31 marzo 1903 va incontro a Dio. Nella sua vita tutta incentrata in Gesù solo e in Maria, conquistatrice delle anime e dei popoli, al figlio suo, nelle sue omelie e in tutti i suoi scritti, presagisce gli errori del ventesimo secolo e lo sbandamento di certi uomini che avrebbero dovuto essere guide e modelli di santità. Come unico rimedio egli propone Maria Santissima, Nostra Signora della Santa Speranza, Maria Spes Desperantium. Speranza dei disperati, guida sicura a Gesù, che anche oggi rimane per sempre l'Emmanuele, il Dio con noi. Lui non si chiamava proprio padre Emanuel? Sì, Gesù rimane la soluzione di tutto, anche oggi, lui solo. Grazie a tutti.